detto del bianco e nero diremo degli altri colori non come vitruvio architetto in che luogo nasca ciascun ottimo e ben provato colore ma diremo in che modo i colori ben triti s'adoperino in pittura vorrei nella pittura si vedessero tutti i generi e ciascuna sua spezia con molto diletto e grazia a rimirarla sarà ivi grazia quando l'uno colore appresso molto sarà dall'altro differente che se dipignerai diana guidi il coro sia questa ninfa panni verdi a quella bianchi all'altra crocei e così a ciascuna diversi colori tale che sempre i chiari siano presso ad altri diversi colori oscuri sarà per questa comparizione ivi la bellezza dei colori più chiara e più leggiadra e truovasi certa amicizia dei colori che l'uno giunto con l'altro le porge dignità e grazia il colore rosato presso al verde e al cilestro si danno insieme onore e vista il colore bianco non solo appresso il riccio e appresso il croceo ma quasi presso a tutti posto porge letizia i colori oscuri stanno fra i chiari non senza alcuna dignità e così i chiari bene s'avolgano fra gli oscuri così adunque quanto dissi il pittore disporrà suo colori trovasi chi adopera molto in sue storie oro che stima porga maestà non lo lodo e benché dipignesse quella di done di virgilio a cui era la faretra d'oro i capelli aurei nodati in oro e la veste purpurea cinta pur d'oro i freni al cavallo e ogni cosa d'oro non però ivi vorrei punto ad operassi oro però che nei colori imitando i razzi dell'oro sta più ammirazione e lode all'artefice e ancora leggiamo in una piana tavola alcune superficie ove sia l'oro quando devono essere oscure risplendere e quando devono essere chiare parere nere dico bene che gli altri fabbrili ornamenti giunti alla pittura qual sono colonne scolpite base capitelli e frontispici non li biasimerò se ben fussero d'oro purissimo e massiccio anzi più una ben perfetta storia merita ornamenti di genne preziosissime